Ci sono tante persone, soprattutto sul territorio, che purtroppo non possono provvedere ai propri bisogni alimentari, diciamo così. Oltretutto da un po' di tempo a questa parte, per via delle guerre, quella in Ucraina e quella in Palestina, la roba ne arriva molto molto di meno. Quindi stiamo cercando di fare quello che più possiamo per approvvigionarci di un po' di olio, di latte, di biscotti, di tonno, che sono le cose prioritarie proprio, oltre a quelle, insomma c'è tutto quello che è possibile. Ci servirebbero anche sia gli omogenizzati, i pannolini per i bambini e il latte in polvere che purtroppo serve, biscotti sempre per neonati, quelle cose là. Proprio in virtù del Natale ci sono tante cose che vengono fatte e questa è una di quelle, ma io la definirei prioritaria, perché non abbiamo quasi più niente. Portarli qua alla parrocchia San Rocco e ci siamo sempre noi, sia di mattina che di pomeriggio, quando vogliono telefonare, quello che passiamo noi a prendere, facciamo di tutto pur di avere qualcosa per accontentare queste povere persone che vengono da noi.